Coronavirus, sono 231 le positività attuali in provincia di Belluno, come segnalato dal bollettino di Azienda Zero. Nove pazienti ricoverati all'ospedale San Martino e mentre prosegue la campagna vaccinale, con l'inizio del mese di settembre sono cambiate le norme che regolano l'obbligo di Green Pass. Si guarda con particolare attenzione all'inizio della scuola. Il personale docente, infatti, sarà tenuto a possedere la certificazione verde per poter svolgere il proprio lavoro. Per il momento, sottolinea il responsabile dell'ufficio scolastico territoriale di Belluno, Massimiliano Salvador, non sono pervenute segnalazioni particolari per quel che riguarda i docenti bellunesi. Ci prepariamo all'inizio della scuola, consapevoli che il punto cardine di quest'anno saranno le lezioni in presenza. Ed è previsto per il 7 settembre un incontro in prefettura per definire i dettagli sulle nuove regole per il trasporto pubblico. Per restare in tema scuola, Luz Dolomiti ha definito una nuova modalità organizzativa per il trasporto scolastico delle persone disabili. L'azienda sanitaria, infatti, nell'ambito delle deleghe delle funzioni in materia di servizi sociali, gestisce anche i trasporti scolastici degli alunni frequentanti gli istituti superiori o i centri di formazione professionale. La novità è che ogni famiglia sarà accompagnata dai servizi ULS nella scelta di una modalità di trasporto. A parità di finanziamento regionale, si legge in una nota, la gestione individuale ha il valore aggiunto di trovare la soluzione più adatta a ogni famiglia. Ora i ragazzi e le loro famiglie accompagnati dai servizi possono scegliere, attraverso un percorso condiviso e sulla base delle necessità del singolo, come andare a scuola. Le spese sostenute saranno completamente rimborsate, la copertura finanziaria da parte della regione è sempre stata garantita in maniera inalterata. Nell'ambito del rinnovo della Convenzione ULS Regione per la gestione delle deleghe in materia di servizi sociali all'azienda bellunese sono stati assegnati 559 mila euro.